Sei stata per questi 20 anni la mia compagna fedele, generosa, intelligente e buona con cui ho condiviso i momenti più belli della mia vita Sei stata per questi 20 anni la mia compagna fedele, generosa, intelligente e buona con cui ho condiviso i momenti più belli della mia vita Complici in tutto e uniti fino in fondo da un amore profondo e unico Ti abbraccio amore mio grande, sarai per sempre nel mio cuore ora distrutto Così Marco Merati Foscarini ricorda, in un neprologgio, la moglie Anna Maria Canakis, l'attrice, scrittrice e Miss Italia 1977 scomparsa domenica sera all'ospedale Umberto I di Roma, all'età di 61 anni, in seguito ad un tumore che le era stato diagnosticato circa sette mesi fa Il marito Marco e la madre di Anna Canakis, Cettino, hanno diffuso oggi l'annuncio funebre con cui affranti dall'enorme dolore annunciano la scomparsa dell'adorata indimenticabile moglie e figlia Anna Maria Canakis Merati Foscarini che ha affrontato con coraggio estremo questa lunga sofferenza Sarai sempre vicino a noi, nei nostri cuori colpiti dall'indicibile dolore Attrice, ex modella, quasi 30 tra film e fiction, quindi l'impegno politico e, infine, la scrittura Nel 1981 partecipò a Miss Universo e, in seguito, divenne modella I funerali si terranno a Roma il 23 novembre alle 15 nella chiesa di San Salvatore in Laura I funerali si terranno a Roma e, in seguito, divenne modella